Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' più chiacchiericcio, un video un po' meno video vlog, un video frontale. Un video frontale perché stasera proprio Momo qualche minuto fa stava facendo una riflessione tra me e me. Come sono cambiato negli ultimi tre mesi, sono cambiato tantissimo e mi stupisco un po' di questo mio cambiamento. E quindi ho deciso perché non raccontiamo questo cambiamento, questa cosa qua che sta avvenendo dentro di me. Magari può essere d'aiuto a qualcuno per, come per dire, nella vita cambierò, si cambia nella vita e anche velocemente in alcuni momenti, in alcune cose. Però prima di tutto ciò ragazzi mi raccomando sempre un bel like, mi aiuta veramente tantissimo. Grazie, cliccate qua sotto e iscrivetevi anche questo al canale, condividendo il mio video, i miei canali social, la sua lista che mi chiamo per fortuna vedrete. Anche lì, seguitemi perché c'è più vicino a me in specializzazione. Detto ciò, ho chiuso queste parenti, ho questo mio cambiamento interiore. Come sapete, quando io ho iniziato alla scuola di specializzazione, o comunque prima di entrare in specializzazione, il mio obiettivo era quello di imparare, però non precludermi nulla. Nel senso, a livello di vita, di quello che potevo fare, di quello che volevo fare, cioè nel senso, sì, voglio imparare, però è giusto, cioè non voglio stare dentro un ospedale alla mattina e alla sera. Anche perché, devo essere sincero con voi, ma non ve l'ho mai negato in realtà questo fatto qua, gli ultimi anni di medicina, anzi, già così dal secondo anno, la mia voglia di fare il medico era un po' altarenante. Questo non perché io non avessi la passione, ma semplicemente perché, come ben sapete, studiare medicina è una prova mistica, una prova di forza, una maratona da 500 km, cioè qualcosa di assurdo. Soprattutto se, come me, siete delle persone ansiose, le persone che, tra virgolette, vivono male l'ansia dell'esame, il fatto di aver stare chiusi 12 ore a casa, permi su una sedia a studiare. 12 ore no, però comunque tanto, tanto, tanto tempo, perché alla fine io sinceramente mi dedicavo solo alla palestra e non facevo nient'altro in sessione di esame. Quindi potete immaginare che, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista sociale, preparare un esame era distruttivo. Quindi pensate che per laurearsi in medicina ci sono 32 esami verbalizzati, ma quando all'altro pratico sono anche 45, 50, divisi in 6 anni. Pensate, l'amore di lavoro, ma l'amore di stress, a cui uno studente medio in generale, poi di medicina anche, è sottoposto per laurearsi. Quindi a un certo punto io dicevo tra me e me, ma chi me la fa fare a me di fare tutta la vita del cavolo? Adesso già fa schifo, immaginiamoci quando sono uno specializzando e poi uno strutturato, la vita ancora peggiore. Perché? Perché vedevi studiare, studiare, libri su libri su libri e non mettevi mai nulla in pratica, non ti tornava nulla, se non al massimo la soddisfazione di prendere un voto alto. Ma come ben sapete, ve lo dite più volte, non è il voto a fare il medico, ma è quello che tu dai al paziente. Questo è il mio punto di vista. Si può essere i grandi luminari, come magari citarne uno, dottor Austro, che non esiste fisicamente come persona, però immaginare un soggetto del genere, sicuramente è preparatissimo, salva vite, però poi la tua pratica al paziente non dà nulla di concreto. E come ben sapete, io sono dell'idea che il paziente per essere aderente alla tua terapia deve fidarsi cieca mentre te, non devi fare questo, se te basta, non ti sapere perché. E quindi comunque, chiusa questa piccola digressione, non c'era una soddisfazione, andavi al tirocinio e reggevi i muri. Andavi a fare quello e non facevi nulla. e vedevi che tutta la tua fatica, tutto il tuo stress era soltanto per quell'esame, ma poi non ti tornava nulla. Quindi era andare tutto te stesso, sacrificandoti, sacrificando anche gli altri, perché amicizie è solo con persone che vivono la tua stessa ansia, tra virgoletti, faticiccia, il mio miglior amico perché viveva le mie stesse ansie, anche a livello, che ne so, sentimentale, è difficile mantenere delle relazioni perché lo stress. Poi alcune persone come me cambiano anche molto di carattere sotto stress. Quindi sacrifichi molto la tua vita, la famiglia, te ne vai di casa, spendi i soldi per vivere a Roma, a Milano, dove che sia. Quindi in sostanza l'investimento è da tanti punti di vista e non ti torna nulla. E quindi io, tra me e me, dicevo, ma chi me la fa fare? Nell'ultimo periodo invece sono cambiato. Ma non è che sono cambiato, in realtà ho riscoperto quello che era il mio amore per la medicina. Sto avendo delle piccole soddisfazioni, non salvo vite, non faccio nulla a dire in particolare, però mi capita sempre più spesso che i pazienti mi fanno i complimenti. Che per il mio lato umano, per il mio lato comunque di cercare di ascoltare, perché anche questo fa tanto secondo me nel contesto di una terapia, di un paziente di ascoltare, di cercare di aiutare, di capire le loro esigenze, perché sono persone e non numeri, questa è una cosa fondamentale, e ti iniziano ad avere delle finisce, guarda, mi so fare bene queste cose. Poi, vedi che anche quello che hai studiato, ti ritorni in mente, dici, mamma mia, questo l'ho studiato al terzo anno, mi ricordo questa patologia qua, pure mi ricordo come si tratta questa cosa qua. Vai in solo operatoria, per me è che voglio fare comunque il chirurgo, mi piace lavorare, vedo che ho una certa manualità, mi fanno anche i complimenti. Io sono sempre stata una persona che sono convinto di non sapere nulla e piano piano, da specializzanti più grandi, da strutturati, dicevo un piccolo complimento, noi dicono sei bravissimo, attenzione, no? Però dicono, bravo, e sono cose che ti fanno venire i sorrisi, dici, guarda che bello, sto facendo qualcosa di... E lo do, e più imparo, più faccio qualcosa, io dico, voglio imparare, voglio rimanere mezz'ora in più per vedere come finisce quel caso, voglio fare... Cioè, proprio, non lo so, no, non lo so, so, è quella voglia che mi ha spinto 7-8 anni fa, quando era, a spaccarmi il culo un'estate intera per entrare a medicina, quella voglia di imparare, quella voglia di apprendere e conoscere, non so come spiegarla, però vorrei fare di più, ovviamente ci sono dei limiti in quello che io posso fare al momento, però se avessi la possibilità mi mangerei il mondo in questo momento, perché ho quella, mamma mia, non sento nemmeno la fatica di svegliarmi alle 6.30 ogni giorno, di andare a casa tardi, di ammazzarmi, di lavoro e slash studio, perché adesso sto lavorando e imparando contemporaneamente, sì, certo, la voglia di aprire i libri non è mai massima, però non ci provo. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere con un commento se anche voi condividete questo mio pensiero, se anche voi avete passato dei momenti no, se state passando dei momenti no da studenti di medicina e non solo, beh, vi posso dire che li ho passati pure io e volevo mandare tutto a quel paese, eppure oggi sono qua a raccontarvi la mia gioia di fare quello che sto facendo il lavoro del medico e di imparare, quindi non vi arrendete, le difficoltà ci sono, le avrò, le ho avute io e le avrò anche io, però con la motivazione e con la giusta voglia si può fare tutto. Detto ciò, ragazzi, spero che questo video sia piaciuto, un bel like, un commento qua sotto, mi raccomando condividetelo, fate conoscere il mio canale perché è bello, secondo me, ovviamente è giusto, tira l'acqua al mio mulino, però è bello il messaggio che io provo a passare, perché io sono un ragazzo come voi, ve l'ho detto più e più volte, ma nulla di più, sono uno normale, nella media, in tutte le cose che fa, quindi ci riesce Peppe, ci potete riuscire sicuramente tutti voi. Detto ciò, vi ringrazio che stai arrivati qui in qua, e ci vediamo al prossimo, ciao! Ciao!